Mondovì è da sempre una bella città, ma un giorno i moregalesi decisero di stabilire precise regole di bellezza per palazzi, vie e piazze. E stituirono la commissione d'ornato. Era il 1836. Oh, questa faccetta è tutta da rifare! Aggiungete a quella porta un arco. Sarà certo più dolce entrare. Questa palazza ha troppe finestre e sono tutte irregolari. Bella simmetrica e lo vogliamo vedere. Non si sa quanti bambini per l'occasione siano stati consultati. Chissà se avrebbero avuto delle idee ancora più belle. Ciao! 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 Grazie a tutti.